Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la nostra unità sulle prime conoscenze sui poligoni oggi vedremo le caratteristiche dei poligoni. Quindi, obiettivi di questa lezione saranno imparare a disegnare gli angoli esterni di un poligono, imparare a classificare i poligoni secondo il numero di lati e il numero di vertici e poi identificare casi particolari, in particolare i poligoni equilateri, equiangoli e regolari. Nella lezione precedente abbiamo introdotto alcuni degli elementi che costituiscono un poligono, in particolare i lati, cioè i segmenti che delimitano il poligono, e i vertici, ovvero gli estremi di questi segmenti. e avevo accennato brevemente agli angoli, in particolare a quelli che si chiamano gli angoli interni. In particolare, in questa figura, che è un pentagono, gli angoli interni sono questi, e poi in questo caso li delimito con un archetto solo perché questo è un pentagono con tutti gli angoli uguali. Normalmente, voi sapete, si usa un simbolo diverso per angoli che sono diversi tra di loro, quindi magari un numero diverso di archetti. Però oggi vogliamo parlare degli angoli esterni. Cosa sono gli angoli esterni? Angoli esterni sono quelli formati da un lato e dal prolungamento di un lato adesso consecutivo. Spieghiamoci meglio. Consideriamo questo angolo interno, anzi, guarda, marchiamolo, chiamiamolo angolo interno. Il corrispondente angolo esterno di questo angolo interno, e questo è un errore molto comune, non è tutta questa porzione di piano, quindi non è tutto questo pezzo qui. In realtà, come ho detto prima, l'angolo esterno è formato da uno di questi due lati e il prolungamento dell'altro lato. Andiamo a vedere come. Per esempio, potrei scegliere di prolungare questo lato qui, quindi prendo il mio righello, potete provare anche a farlo a mano, però insomma, con il righello viene più preciso, come al solito allineo il mio righello al lato e faccio il prolungamento da questa parte. Ecco qui, questo è il prolungamento di uno dei due lati. E come dicevo prima, la definizione è che l'angolo esterno è formato da un lato, in questo caso questo lato qui, e dal prolungamento di un lato ad esso consecutivo. Quindi, l'angolo esterno corrispondente a questo angolo interno è questo qui. Ok? Allora, proseguiamo e ripetiamo questa procedura per gli altri lati del nostro pentagono. Però, insomma, questa procedura si può fare con qualsiasi poligono. Quindi, di nuovo, l'angolo esterno, quindi questo è l'angolo esterno corrispondente a questo angolo interno, anzi, tra le cose scriviamo, no? Angolo esterno. Ecco qui. E ancora, ripeto ancora il procedimento. Evvito di fare la stessa cosa a casa o in classe. Disegnatevi un poligono qualsiasi, disegnate i suoi angoli interni, e con l'aiuto del righello, disegnate i prolungamenti dei lati e i corrispondenti, quindi angoli esterni. Va da sé, no, che se ho un poligono con un certo numero di lati, quindi di angoli, in questo caso 5, gli angoli esterni sono in ugual numero. Quindi avrò 5 angoli esterni. Finiamo con l'ultimo angolo esterno. Ecco, una breve osservazione. Io ho deciso, in questo caso, di disegnare gli angoli esterni muovendomi in questo verso. Quindi li ho disegnati nel verso anti-orario. In realtà, potevo fare la scelta opposta, cioè, per esempio, partendo da questo angolo interno, potevo scegliere questo come lato di riferimento e prolungare da questa parte, ora lo faccio molto velocemente, questo angolo interno e andavo a trovare questo angolo esterno. Va da sé che questo angolo esterno è identico e congruente a questo angolo esterno. Cioè, avrei ottenuto la stessa sequenza, però, nell'altro verso, cioè nel verso orario. Quindi, tutte le volte che ho un poligono, posso decidere di disegnare gli angoli esterni o in verso anti-orario, come ho fatto adesso, o in verso orario, cioè nel verso opposto. E ora una domanda per voi. Facendo riferimento al disegno di prima, che cosa osservate circa gli angoli esterni di un poligono e i corrispondenti angoli interni? Qui è molto importante aver presente la figura che vi ho fatto vedere. Allora, qui vi chiedo di mettere in pausa il video, pensarci un attimo e poi vi dirò che relazione esiste tra queste coppie di angoli. È abbastanza evidente e a questo punto, guarda, torno indietro al disegno di prima che un angolo interno e il corrispondente angolo esterno dal momento che partono da queste due, queste due, si possono considerare come due semirette opposte o come due segmenti opposti, è chiaro che insieme formano un angolo di 180 gradi. Quindi, un angolo interno e il corrispondente angolo esterno sono, vediamo se ci ricordiamo la parola, sono supplementari. E questo è molto importante perché, se ad esempio io conosco un angolo interno di un poligono, posso automaticamente trovare il suo corrispondente angolo esterno perché so che insieme faranno un angolo piatto, faranno 180 gradi e viceversa, se conosco l'angolo esterno di un poligono trovo immediatamente il suo corrispondente angolo interno di nuovo perché hanno questa relazione tra di loro. Passando alla seconda parte della lezione andiamo a vedere un po' di come si chiamano i poligoni perché i poligoni sono caratterizzati da un numero variabile di lati e vi ricordo che un poligono con un certo numero di lati avrà lo stesso numero di vertici e lo stesso numero di angoli interni e ovviamente anche di angoli esterni. Non è importante chiaramente conoscere il nome di poligoni di qualsiasi numero di lati ma ci sono alcuni poligoni che noi usiamo con grande frequenza in particolare i poligoni con tre lati e con quattro lati poi capiterà anche di trovare poligoni con 5, 6, 7, 8 sul libro di testo penso che troverete il nome dei poligoni fino a 12 lati però per ora ci concentriamo sui primi 4 quindi poligoni con tre lati va da sé 3 è il numero minimo per un poligono e qui lascio a voi pensare come mai non posso avere un poligono con due lati quindi come si chiama un poligono con tre lati come si chiama un poligono con quattro lati 5 e 6 di nuovo mettiamo un attimo il video in pausa ripeschiamo un po' dalla memoria queste definizioni e poi vediamole insieme un poligono con tre lati chiaramente si chiama triangolo e notare come più che fare riferimento al numero dei lati qui si fa riferimento al numero degli angoli che però è la stessa cosa invece un poligono con quattro lati e magari qualcuno di voi avrà pensato quadrato rombo eccetera però il nome generico per un poligono con quattro lati è quadrilatero la cosa interessante è che questo è l'unico poligono l'unica classe di poligoni diciamo così per cui il nome fa riferimento al numero dei lati da qui in avanti sarà sempre una cosa legata agli angoli per esempio cinque lati e l'abbiamo già incontrato più volte in queste ultime due lezioni è il pentagono dalla parola greca che sta per cinque forse vi sarà capitato di sentir parlare di un edificio molto famoso che si chiama il pentagono oppure di uno sport che si chiama pentathlon un poligono con selati invece si dice esagono di nuovo dove es appunto significa sei concludiamo la lezione di oggi con un'ultima serie di definizioni ecco abbiamo visto come possiamo classificare i poligoni in base al numero di lati e quindi diversi e quindi di angoli un altro modo di classificare in base alle dimensioni relative di questi lati e angoli in particolare noi abbiamo tre definizioni ovvero equilato equiangolo e regolare di nuovo niente che non abbiate già trovato di nuovo qui si tratta di mettere un attimo in pausa il video pescare dalla memoria e ricordarsi cosa significano questi tre termini sicuramente i primi due vi sono familiari il terzo dovrebbe venirvi fuori appunto per intuito ovviamente equilatero equi nel senso di uguale è un poligono che ha tutti i lati i lati congruenti quindi se è un poligono andiamo a misurarne i lati se questi lati hanno tutta la stessa misura allora è un poligono equilatero equiangolo invece significa se ha tutti gli angoli congruenti e attenzione non è che uno significhi l'altro cioè noi possiamo avere dei poligoni equilateri che non sono equiangoli possiamo avere dei poligoni equiangoli che non sono equiangoli tuttavia se un poligono ha entrambe le caratteristiche cioè è sia equilatero che equiangolo allora lo chiameremo regolare quindi un poligono equiangolo scusate quindi un poligono regolare è un poligono che ha sia tutti i lati uguali tra di loro sia tutti gli angoli poi faremo insieme degli esercizi per mettere in pratica la nostra capacità di distinguere tra poligoni equilateri equiangoli e regolari ma per oggi è tutto arrivederci da Mr. Boscherini grazie grazie